Roma chiudere al P presto. L'obiettivo diministra, soprattutto, i sindacati per arrivare alla firma del nuovo contratto degli statali. Entro Natale la deadline che si data la titolare del Ministero della Pubblica Amministrazione. Marianna Amadia. E oggi pomeriggio i sindacati si ritrovano con l'Aran, l'agenzia che negozia per conto del governo, per un nuovo incontro di trattativa, che potrebbe essere quello finale. Se serve, si ha ndr avanti fino a notte. Azzarda qualcuno, anche perci temi sul tavolo sono molti, a partire da quello sulla retribuzione su cui il confronto vero e proprio deve ancora partire. Nel frattempo, tra le ultime novit per i dipendenti pubblici entra anche la questione della pausa pranzo. Nella bozza del nuovo contratto si ipotizza una riduzione del tempo minimo dedicato al pasto. Previsto dopo le sei ore continuative di lavoro. Da almeno 30 minuti ad almeno 10 minuti. Un'idea che una parte del sindacato potrebbe accettare per acceverrebbe incontro all'articolazione dell'orario flessibile, ma che creerebbe delle difficolt per il rilascio dei buoni pasto. Spunta anche il tetto agli straordinari misura G sperimentata in passato in alcuni settori ma che potrebbe essere estesa a tutto il comparto che riunisce ministeri, agenzie fiscali e parastato. Un'ipotesi fissa il tetto a 180 ore. Ma la questione è ancora tutta da discutere. Cos come la battaglia contro l'assenteismo con la possibilità di far pagare a tutto l'ufficio le assenze strategiche di alcuni impiegati. Misura che piace molto poco ai sindacati e che con fintesa chiede di estendere anche i dirigenti dell'ufficio che devono essere i primi a pagare i danni dell'assenteismo. Intanto, arrivano nuovi dati sull'occupazione nella nota trimestrale di Istat, IMS, Ministero del Lavoro, Inaile Anpal. Nel terzo trimestre 2017 il tasso di occupazione è arrivato a quota 58.1%, con 2.7 punti in rispetto al minimo del terzo trimestre 2014 che fu di 55.4%. Nel 2008, prima della crisi, era il 58.8%. Aumentano dunque i contratti. Quasi 1.2 milioni ne tre anni. Ma 837.000 sono a tempo determinato e viene evidenziata una nuova forte crescita del lavoro a chiamata passato in tre mesi da 122.217.000 lavoratori. Riproduzione RIS e IR via TALTR o su MSN. Pubblica amministrazione. Non solo assenteisti. RAI. Sponsorizzato. Offerta Surface Laptop 5.15%. Solo per poche ore risparmi fino a 224. Acquista qui maggiore maggiore.